Per noi abbiamo il nostro vendito di verzo di ore, questo vendito di un'altra pagata e ce l'ho segnato, continuo di fare la nuova, di più tanto di prendere al sistema matrioso anche i benefici che possiamo prendere, anche gli aiuti e le raccomandazioni di posto di la nuova, facendo il nostro dovere, la lotta alla madre, il primo problema del nostro è la nostra terra, bellissima e disperazione, non dovrà essere soltanto una distanziata eterna di preposizione, ma un movimento culturale e benele di questo oggette tutti e specialmente le giovani e le mani, le più dette del dire subito la benedetta, del prestito consumo di libertà e spagnierà passando le città, da me, da me che sono ancora qui, e sogno cose che non non so di te, dove sarà, che strada farà il cuore di te?